Noi abbiamo bisogno del servizio civile come dell'occasione per dire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che cos'è questo paese, che è un paese meraviglioso per le opere d'arte, per la bellezza, per le infrastrutture, per l'innovazione vi garantisco che girando per l'Italia trovo la bellezza veramente presente in tanta parte della nostra vita quotidiana ma c'è anche una bellezza che è la bellezza della solidarietà, dell'accoglienza, dell'inclusione, del farsi carico degli altri un paese competitivo quando ha questo nel DNA